I carabinieri della Compagnia di Cremona, gli ordini del Maggiore Rocco Papaleo, sono di nuovo intervenuti in una scuola per un servizio di prevenzione sull'uso di sostanze stupevacenti. I militari sono entrati nell'ITIS Torriani di Vesminario con il nucleo cinofilo di Oriolsterio per un controllo concordato con la direzione della scuola. I cani antidroga hanno individuato 5 studenti, di cui 13 di 18 anni e 2 di 15, che hanno ammesso spontaneamente di aver fatto uso di hashish e marijuana. Nel corso delle perquisizioni personali non sono stati trovati stupevacenti, tuttavia è stato avviato l'ITER previsto dalla legge per la segnalazione dei 5 studenti alla prefettura. Sono stati diversi gli interventi dell'arma negli ultimi giorni, spicca al ritrovamento di un escavatore che era stato portato via da ladri non ancora identificati che si erano introdotti rompendo un cancello nel cantiere della pista di motocross di Cappella Cantone, in località Retorto, nell'ex Cava. Seguendo le tracce, i militari hanno rinvenuto il mezzo che era stato nascosto da alcune centinaia di metri. A sua resina, invece, sono state deferite a piede libero due donne di origine rumene, di 34 anni, sorprese a scavalcare il cancello del deposito del supermercato Famila di Via 4 Novembre, da quale avevano appena rubato alcuni generi alimentari. Grazie.